Prosegue il calo della curva dei contagi covid in Puglia e migliora ancora la situazione. Nella settimana dall'8 al 14 settembre, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, c'è stata una riduzione dei nuovi casi del 15,3% rispetto a sette giorni prima. I casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono 91, sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica 7% che in terapia intensiva 4%. Nella settimana analizzata la provincia con più contagi è quella di Barletta-Andreatrani con 54 nuovi casi. Seguono Lecce, 42, Brindisi, 31, Foggia, 28, Bari, 25 e Taranto-16. Buono anche l'andamento della campagna vaccinale. In Puglia è del 6,7% la quota di popolazione over 50 che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-covid. È il miglior risultato in Italia seguito da quello della Lombardia con una scopertura dell'8,5%. La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71% a cui aggiungere un ulteriore 6,5% vaccinato solo con la prima dose. Quindi il 77,5% dei pugliesi dai 12 anni in poi ha ricevuto almeno la prima dose di siero anti-covid. Fanno meglio solo Lombardia e Toscana. Tra i 12 e i 19 anni la percentuale di pugliesi che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 26,3%, la media italiana è del 33,7%.